Sono Alessandro Candiani, CEO e co-founder di DNAphone, un'azienda in grado di rivoluzionare il mondo della diagnostica portatile, sviluppando piattaforme altamente innovative connesse a sistemi mobile e servizi cloud. DNAphone offre al cliente strumenti estremamente semplici nell'utilizzo, affidabili e ad un costo accessibile. Smart Analysis è la nostra piattaforma dedicata al settore agroalimentare. Smart Analysis è commercializzato nel settore vitivinicolo, consente il controllo di qualità durante tutte le fasi della produzione del vino, dalla vendemmia all'imbottigliamento, azzerando i tempi di attesa e riducendo sensibilmente i costi. Oggi le cantine hanno principalmente due opzioni, l'invio di campioni ai laboratori esterni con tempi di attesa lunghi e costi elevati o l'utilizzo di strumentazione tradizionale da laboratorio onerose e non sempre semplici da usare. Il nostro strumento è fortemente scalabile, le componenti hardware, software e cloud rimangono le stesse. È sufficiente adattare il kit di analisi per le diverse tipologie di filiere e parametri. Con i primi strumenti in beta test già distribuiti stiamo lavorando anche al controllo di qualità delle filiere delle acque e della birra. Smart Analysis è una combinazione di strumentazione analitica avanzata con una piattaforma software per sistemi mobile e servizi cloud. Il funzionamento è semplice ed è guidato. Basta scaricare l'app dallo store sul proprio dispositivo, collegare sullo strumento e inquadrare il kit di analisi che si intende utilizzare seguendo le semplici istruzioni del software. Al termine dell'analisi si può salvare il dato in locale oppure in cloud per condividere il dato oppure analizzarlo in un secondo momento. Le piccole e medie cantine, gli enologi e i laboratori di analisi che utilizzano al nostro prodotto hanno attualmente dato riscontri decisamente positivi. Smart Analysis mi consente di effettuare analisi in maniera immediata, veloce e sicura, stando in cantina senza dover affidarsi a un laboratorio esterno che chiaramente necessita di tempi più lunghi. Rappresenta per una piccola cantina una vera rivoluzione. Smart Analysis è uno strumento che mi è piaciuto subito per la semplicità nell'uso. Il fatto che si possa trasportare facilmente e portarlo quindi in cantina c'è il prossimo vantaggio del prezzo. La cosa che mi ha meravigliato è la dimensione. Per una scuola questo strumento è un ottimo sussidio didattico. Proprio per la compattezza dello strumento, la trasportabilità e l'implementazione con tablet e cellulari lo consiglierei sicuramente a tutte le piccole e le medie aziende vitivinicole e a livello didattico a tutte le scuole che si occupano di viticoltura.